musica ok allora colo dove andiamo? tanto siamo in difesa quindi dobbiamo dividersi io sto un mito e talo dove puoi andare tu? il boiallo di folle ok perfetto Ale vuoi starci tu sopra? 2 middle mi lasciano mi lasciano 3 middle un in fondo dietro la cassa grande vento ma se serve il lag uno vento è già passato li fermo io è l'ultimo ecco la bomba in a non fa tagliarla a plantare appena riesco a sparire no 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 ando a plant eh si ando a plantati una lo knff aspettate fermi 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 fatemi fare un sacco di soldi che dopo posso pigliarmi pure la non farei non farei ecco non cazzeggiate quella sinistra ok ma io ho fatto istante anche volendo mi avrebbe fatto il culo uno a metano l'ho ucciso sempre lui penso quello dovevi si è mh si mi ha ucciso lui vabbè si è fatto l'unico ha fatto la tripla di loro secondo me sono russi che non è il primo loro è forte quello è sia maxoxoxo ok mi prendo lo scout Gesù disse UMP UMP fu ieri c'era uno con la UMP che si è fatto lei seggio ok dac mi sono messo in amore di quando avevo 8 anni perchè? ma metà no ha il sultello no anche l'hack ce l'ha il mio metà no mi ha rubato sul posto io non mi ha uscivato no però decidi no è che prevedura pp bison ma ti prevedo male si prevedo vabbè capita ok l'ultima è il garage lui ti senti sempre la magliettina che comunque cattaricchione ok una aveva la K per chi lo volesse un caricatore qualcuno vuole la K vabbè ho preso eh no vuoi di fabbrica ma tu non lo stavi per uccidere io ho le M4 falle oh e non l'ho vabbè è mia è mia sei presa colore Luca vabbè io mi prendo lo scout si vabbè ma quello è pro chi di mezzo ah no mmm vabbè tanto vabbè ok tutto vabbè faccio vedere la progettazione faccio faccio quello cipro nell'anima pure morti in sigla lo intanto e si è sciolto metano tu dove sei andato in a testo ovviamente non vado per la ghilla ti ho trovato un modo per scoprire dove vanno dove non va a metano dove vado io è diverso me lo vado stante mi vuole sento uno M44 sta plantando non mi sta plantando non mi sta plantando sta plantando sta plantando planta ma a me servirebbe aiuto ragazzi ah una side uno e ventrum flashbang ventrum non c'è nessuno in verità tutti e due al site metano metano ho improvvisato uno ventrum ho improvvisato uno ventrum non c'è non c'è non c'è ma era sicuro metano forse si è spostato si è spostato si è spostato tu l'hai detto senza avere prove vabbè 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 ora mi prendo la pp e magari smetto di laggare si prendi che uno scranzo posso andare in bico la so coprire si metano in bico si metano in bico mi credo che si andrei a aia ti sento di ombra io non credo sono che mouse scrawse che c'è non copro se fanno il boost cazzo mi ha messo del boost tavolo non sopra la metà avessi di controllo di sono fatte di più non mi sono facciato colpa mia sì l'ultima site la boom bella bella l'acqua vabbè da oggi sono la festa della posse la città l'uomo 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 schifo schifo l'uomo 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 non posso dire campanile piccoli oggi è una città ecco l'uomo ecco l'uomo 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 pole crepa l'uomo trovo che pavolo ma l'ho colpito ma l'ho colpito che si versino ma il suo cuore può essere sempre a fare le cose cattive ah un'infondo l'uomo 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 invece del folle che copre quindi non è che si dà però si esatto dove era l'uomo però vuole giù uno porta due porte due porte alle porte così non lo può uscire uno garage ah adesso è morto copriportale il fuso metano ecco arriva il freddo metano difeso di coro non lasciare arriva fatto no ora mi spieghi metà la terra l'ho preso io 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 Ale dammi la WP siete troppi grazie ah non è tua caro cerca di coprire meglio che vi siete fatti agitare vengono usando la WP l'hanno cacciato proprio instant ah abbiamo già vinto eh no si certo la mappa city ma sta zitto non dire che è così che è una mappa T questa esatto la pettine non si giocare di robinetto se lo posso acqua c'è il voto asmo caraccio penso che non voglio storia tavol ben gato come copriano oltre la se si fa un partito non ho visto se sei se sei poco lo che se posso non ammazzo arrivano se volo sei fa colù coluncio per un garage con la pop e un in giallo no per la pista ma fermo l'ultimo alla cappa dovrebbe l'ultimo la scelta e si è mai chiesto non è riuscita il mondo inizio con la effigia un po' di nuovo la modestissima ea neanche presentato 15 euro ma con le carri collega la pubblica per un commento cosa la ufficio se te lo uscite fare 15.000 euro se ci vediamo da notare la macro per far girare il coltello e se lo vanno perché ho la macro ma che ti ha già 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 perchè siamo 3 in b non siamo 3 b sono ritardato è diverso ma non era una vita perchè vanno sempre dove non sono io ma l'hai detto perchè non ci sei tu ecco non è mai da rompere non nemmeno una volta che sono utile io ho già detto non faccio il giallo a spero non è perchè sei scarso ok fallero non è tutto qui stanno guardando p ma potrebbe anche essere ovvio non ci sono più io mid 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 questa è la mia vita è la mia vita sicuro no ora sono b no no ora torno di nuovo ecco quando si è fatta la kill eh no poi gli lascio colpino quanto è verso la stanzina quella di destra è fuori da esattamente catwalk andate catwalk colu attente qua colu a sinistra no dai fatti bella veramente oggi con la cappa si è un po' la coppina di metano è più figa si al boom eh già fa tanto boom ma devi venire questa cosa io gli segnalerei del canale zerk folle basta basta le battute ma la macro che fa girare il cartello non fa girare le bombe la coppina è il boom del momento non c'è battuto ma basta le battute cioè se aggiunge il freddo il mirino di merda il mouse di merda le battute le battute le freddure vado a suicidare bomba come mai metano sull'inviere proprio questi citeranno è nato inizibile è nato inizibile è nato inizibile e non fregherà eh vabbè dai aspetta che flash vabbè ma che culo di hai visto l'hacker un po' di cazzate raga attenti che cosi vi falle sta tutti non te lo dico posso l'hs erena mentano prima eccolo ecco un hs no sbagliate ancora mancun colpo disi asus ha 17 ping quindi appena quello dove andava? era là in mezzo era là in mezzo ok era appena uscito dal garage avete visto se rientrato no no non l'ho visto non stai guardando te dark ehm se non è qua metano viene sicuro o da mid noi non sto guardando mi metani riflessi eh non sto guardando no veramente no veramente mi sei qui si sta pushando metano no no middle 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 folle qua lag 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 ho laggato metano però l'ho mazzato si è laggato no è vero l'ho visto anch'io stai disattivando i wall lasciamo i mid di violenza f7 basta oh hanno un bot doppia barretta ma chi è che ci ha fatto lei son jesse fight è un cam di pro ti lasci provando che è la f7 e granata cosa c'è di meglio ha doppia barretta che schifo di arma e' z ci faccio le peggiori ma' z lo che erano in busto mi hanno detto come da c'è il gali penso a vediamo non c'è usciamo da garage dove siete questo garage usciò da mio dio aiuto azi uno in giallo e uno site metano meno 60 in giallo non in giallo mouse bella metano headshot con com'è chi si chiama altri articoli che mi ha dato 3 ore condanale no eh raga ma io gioco sempre quello fai 7 e' molto più OP delle altre armi eh 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 a me ogni tanto si blocca il mouse e' un giro mosse di merda di treno ma per quello di certe nomi sciotti ma non ti nemmeno dirai chi vuole il p90? io vuoi tu il p90 silver yes vabbè per lasciare che se mi prendevo la bupia certo certo vincere round deco e quelli studiati perderli triste esatto eh vabbè ma se quello ci ha fatto lei si di culo metano lo si noi siamo pps ma se è cps cms 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 ma cazzo io cms cms sono da voi e state sparandata ah c'è il bomb drop no cms fa lo che ha brigare cms metto qua col giu si è in port Fa troppo freddo Sono in due Ale La bomba sta scappando Oddio bottiglio Non crepa Hai scappato già in garage E' tatissimo anche lui Ragazzi due Madonna però già che passa qui Ale sei un cieco Vediamo se lo Zeus shot gli ha lì Ormai penso di tutti L'accendiamo? L'accendiamo L'ultimo round che cosa si fa Accendiamola la bomba Accendiamola Metano ti do l'M4? Figurati guarda Miracoli Lo voglio Ma se è quello di Stunt Shot Allora tu penso non hai capito Che arma ha Metano con luce jump Niente scherziamo I suoi signori ci peggiano I bambini non ci stanno Non ho lanciato qualcosa È possibile Ea E ti piace Vieni vediamo se non ho passato Quasi colpito Quasi Quasi Dimmi se c'è qualcuno in porta Colpito? Non c'è nessuno Colpito? Oh mamma Da dietro È autosnip per me di uno porta Ma come uno porta che c'ero io in porta No no come l'hai missato Bella Metano a distanza lo becca Era tutto calcolato Gli hai sparato i piedi appena clicchi Il colpo non so dove è finito Vabbè Questi neanche parlano Non sono rossi sicuro Allora abbiamo la Jesus Destruction E andiamo Come si chiama Luca l'Introtection? L'Intratec L'Intratec è la Tec 9 Eh sì L'Introtection L'Introtection Andiamo su Non so più veloce No Metano Metano Non so più veloce Le gambe Boost me Boost me Boost me mother Boost me mother Facciamo rush da boost Vai 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 Che la fate assalire No Eccoli Tu lo fai instant Esatto è vero Vabbè Ma sono lui No no è vero Ho inchiuso a miglietto Oh dal fuori l'ha arricchitato Quanti morti qua in mid Veloci scontate Rotiamo Ma come si è ruotato Dovete entrare T'hai visto a sinistra? Madonna dark Madonna dark Quanto sei scarso Adesso safe Ma quello è un parabrezzo Sono scicato Sì Sei scicato È un parabrezzo Spariamogli Quattro terzi Questo era pericoloso Quattro terzi Grazie Vabbè Lasciamo in B Violenti Ok Quello là Fa solo headshot Non è che C'era Non è che Io sono C'era Quale lui? B B Buon evento Lo prendo io E là dietro Ciao Uno sul site Una site Ho preso il rally knife Ok Qualcuno può aprire Venti Non mi siete due sotto Vabbè Niente Aia Aia No Fatelo non creffare No 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 Dovrebbe essere sopra Ah no Dov'era Era mid Ah Ma te li hai? Un po' di meno No No Ban Ora vi ho la capa Eh Rush a minà Tanto per fare qualcosa di diverso Sono l'arma più forte del gioco Arte 9 Lo Zeus Grazie Figurati Sempre gentile Vuoi salire in mid? Let's go my brother Perché win by 7 Perché hanno 20 16 42 40 Non c'è nemmeno Uno dei nostri sotto 50 Di ping Loro c'è nemmeno 16 23 No non c'è uno sopra Ma te l'ho detto Ah però Vabbè Vabbè Non ti fai problemi Sì Commentati Ho sentito Il suono dello Zeus Ma era l'acca Come ti hanno comprato Grazie alla flash No problem Uno middle Uno L'ultimo 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 Metano Ok Eh sì Perché dovessi solo Come solo Vieni da cammini Non c'è davanti Già Morto No Menon 65 Dai Defusa Defusa Ma perché Che culo Meno male che non ha defisato No Non c'è L'ultimo È ritardato Vabbè 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 Basta Abbiamo finito Di trollarli Possiamo giocare La rutella del mouse La rutella magica Vabbè Mettano quella Puffita Quando la usa La stiamo perdendo No Dai a Fall Anche quello Per quello che mi busti Yeah Ma sono più meglio Vabbè Fai sentita Dicetta Quella In middle A rimanirà Mi ero mutato Invece di switchare arma Ok Una stava lasciando Aire il bot Eh manca se ci siamo Ammazzati al bot Il bot è la vp Asimov Si a vp P90 Ah bello No Non trovo il primo Che non mi può morire Gli ho fatto a testa Con la granata Ma perché mi bloccate Non ero io È la vita Ahia Granata Come sempre Quello stronzo lì Mi uccide Vabbè Autosniper car Lucato Sniper car State safe Ok Lentatevelo Siamo Bella luck Megazione Hai fatto tu l'istante all'auto No Ma vabbè Quello dietro Lasciamo Nulla Esatto Ma è il bot No Non è il bot Ma chi schifo Era quello dietro di me C'è un amigo Atterra Falla No Vuoi un'arma No Io gli ho dato delle chiese Ho il mio k Stato Ah beh Lucano Uno che sta facendo Quanto è il bot Shinoda Ma ci vorrei una città Ragazzi Perché avete comprato di più Perché abbiamo il big money Abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Abbiamo come Darkfall Adesso supera a metà Così sta zitto Ma non è che Non è a sinistra ragazzi Inoc Vieni Inoc Vieni Ma dove è finito il bot E da non è subito sotto di te Sotto di me Perché c'è un sotto Eh vabbè Scusa Il verde Volevo dire Anche il verde C'è un sotto di lui Mi dispiace Colu E' sotto E' sotto Colu No scoop Vabbè A 10 centimetri Uno è dietro di noi Arriva Uno l'ho visto Spottato una mappa Dietro di noi ragazzi Ah siamo in due Ok Ragazzi Da sinistra Da sinistra Fanno a sinistra Vedano smocca Ok No 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 è scappato Bella L'ultimo in Bivans Penso Donino pe No era site Meno 78 Incendialo Incendialo Non capisco A me sembra in fondo A sinistra Lo spero Incendio Incendio Per sicurezza Con la pistola Con la pistola Meno 78 Sì è meno 78 Bella metano La quadra di metano finale Credibile Oh Oh Io la volevo Vediamo il rank Al 104 ancora Quale la volevi tu? La cacciatore Grazie Così la apri Trovo un altro Anche la verona Tutti 9 a 1 Penso Fermi No Non penso Saranno di meno Ah no Nova 2 Rotex Il primo è il primo è il primo è il smartphone Comunque